Aumenta il grado di sporcizia dei nostri quartieri a fronte di una tassa sull'immondizia tra le più alte d'Italia, dice Lambiase. Dietro questo paradosso ci sono anche alcune decisioni e competenze non locali, come l'obbligo di trasportare l'indifferenziata allo stile di battipaglia per la produzione del CDR, che viene poi ritrasportato all'inceneritore di Acerra per essere bruciato. Ma tutto il resto, dice la consigliere di opposizione, dipende dall'organizzazione che si è data al comune di Salerno. I soggetti che intervengono per lo spazzamento dei quartieri sono tre, gli operai del comune, la società Salerno Pulita ed una serie di cooperative sociali. La raccolta differenziata porta a porta e opera di Salerno Pulita, la raccolta del vetro, le isole ecologiche e la rimozione ingombranti sono servizi effettuati dal consorzio di Bacino Salerno II. A tutto questo si aggiunge la gestione a perdere dell'impianto di compostaggio. L'organico, lavorato dal sito, produce un compost che non viene venduto ed i costi elevati dell'impianto vengono solo parzialmente compensati dalla produzione di energia elettrica recuperata dai biogas generati da rifiuti e dai pannelli fotovolcaici installati sul tetto dei capannoni dello stabilimento. L'effetto, di quella che l'Ambiase definisce la disorganizzazione, sono costi di gestione che superano ampiamente la media nazionale. Altra strana faccenda, continua, sono stati i costi di realizzazione dell'impianto di compostaggio che a Salerno raggiunsero una cifra doppia rispetto ad altri con capacità superiore di trattamento come quello di casa a Passerini a Sesto Fiorentino. Costi elevati per servizi inefficienti anche perché, dice sempre il consigliere Lambiase, ho constatato che il settore è dotato di dirigenti, funzionari, impiegati ed operai comunali e non capaci e competenti che non vengono però messi in condizione di dare il meglio, si pensi ai mezzi scassati a disposizione degli operatori ecologici comunali. Disfunzioni, carenze, a cui, conclude l'Ambiase, visto anche il costo per le famiglie salernitane, fra i più alti d'Italia, l'amministrazione comunale ha il dovere di dare risposte immediate. Grazie a tutti.